Un grave errore che fanno molte persone che credono nella reincarnazione è quello di andare ad esplorare le vite precedenti senza prendere in considerazione ciò che capita nelle vite attuali, perché il modo migliore per sapere che cosa abbiamo prodotto nelle vite precedenti, il karma che abbiamo generato è quello di esaminare la nostra vita attuale, soprattutto quei nodi che in qualche modo attanagliano la nostra vita o attraverso l'attrazione, quindi attraverso gli amori, le relazioni che ci capitano o attraverso anche le avversioni, cioè gli odi, risentimenti, i rancori. Nell'evoluzione karmica rappresentano in questo momento, in questo momento dello spazio-tempo, del continuum spazio-temporale, le esperienze che sono esattamente il prodotto di tutto ciò che noi abbiamo creato da un tempo senza inizio praticamente. Quindi non è molto importante sapere che in un certo momento dello spazio-tempo eravamo dei sacerdoti dell'antico Egitto piuttosto che dei contadini dell'Afghanistan. La cosa fondamentale è capire che tutto ciò che in qualche modo attanaglia, a volte anche ossessivamente, la nostra vita attuale è il prodotto di qualche cosa che noi stessi abbiamo generato. Quindi è lì che dobbiamo andare a lavorare, a riflettere per poter sbloccare e quindi creare un'evoluzione, eliminare un nodo che altrimenti continuerà a condizionarci per tempi senza fine praticamente. Quindi analizzare il tempo presente, analizzare le situazioni che ci capitano, meditare su questo è la via regia che ci consente di liberarci dai nodi carnici. Questo se però impariamo a variare il tipo di azioni che facciamo, perché se ci lasciamo trascinare dall'istinto, dall'impulso, allora continueremo a ripiantare sempre gli stessi semi. Un po' come dire, continuo a piantare i semi delle mele e spero che nascano delle pere e non nasceranno delle pere mai, neanche se varierò tutte le condizioni al contorno possibile. L'unico modo per ottenere delle mele è piantare dei semi di mela e quindi la cosa fondamentale è analizzare e prendere in considerazione ciò che ci capita in questo preciso momento del continuum spazio-temporale. Certo che può essere anche scomodo riflettere su questo, perché è molto più comodo credere che nel 1548 stavo su un galeone spagnolo che venne affondato da un brigantino inglese e per questo adesso ho paura dell'acqua. Questo potrebbe essere sicuramente utile a livello culturale, ma non mi va a risolvere il problema. Quello che bisogna fare è andare a capire che tipo di rapporto io ho con l'acqua, adesso faccio l'esempio, per riuscire ad affrontare ora nel tempo presente questa precisa situazione, perché soltanto un modo di affrontare nuovo di questa situazione senza fuggirla, esplorarla fino in fondo mi consentirà di evolvermi nel continuum dello spazio-tempo. Non dico che mi permetterà di arrivare all'illuminazione, cioè allo scioglimento nella chiara luce primordiale e vivere nella beatitudine e nella vacuità, nell'unione di beatitudine e vacuità. Però mi permetterà comunque di fare un percorso in positivo, in primis in questa stessa vita, perché è anche sbagliato credere che le modifiche che io farò adesso possono avvenire tra 50 vite, questo perché è molto demotivante. Noi possiamo realmente cambiare sia le nostre reincarnazioni future, ma soprattutto cambiare la nostra vita se impariamo in questo preciso momento, questa è l'opportunità che ci dà questo corpo, è l'opportunità che ci dà questa mente, in questo preciso momento, in questo preciso istante. Quindi andare ad agire, sfruttare il tempo presente per ottenere dei potenti cambiamenti. E questo possiamo farlo soltanto andando prima a renderci conto esattamente di quelle che sono le dinamiche che possono influire sulle nostre situazioni e trovare il modo di affrontare le stesse cose in modo diverso, soprattutto con un'intenzione diversa e con uno spirito diverso, perché se continuo a manifestare la stessa rabbia, lo stesso lancore, lo stesso risentimento. Ogni volta che mi si presenta un oggetto di rabbia, vuol dire che non ho ancora risolto il nodo della rabbia. Se continuo a manifestare lo stesso tipo di gelosia, lo stesso tipo di attaccamento, ogni volta che mi si rappresenta un oggetto d'amore, ad esempio, vuol dire che non ho risolto questo nodo e continuerò a piantare sempre gli stessi semi e questi semi continueranno a dare i loro frutti in un tempo che può anche essere senza fine, se non si riesce ad innestare in un momento preciso un cambiamento. Quindi sfruttiamo questa opportunità, questa possibilità che ci dà il nostro corpo, che ci dà la nostra mente, che ci danno le nostre conoscenze per attuare adesso il cambiamento. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!